Sarebbe stato un agguato intimidatorio quello avvenuto questa mattina in Via Galeso, Nerione Tamburi a Taranto. Michele Pasanisi, 53 anni, tarantino, intorno alle 9.30 aveva lasciato la sua motocicletta presso una rimessa quando è stato raggiunto da tre colpi di pistola che lo hanno centrato alle gambe. La raffica dei colpi, secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, sarebbe partita da non meno di due metri di distanza dall'uomo, da una lancia Y che aveva a bordo due persone, conducente e passeggero, entrambi a volto coperto. I carabinieri sono risaliti all'arma grazie ad un bossolo e ad uno Giva 357 Magnum trovati sul posto. Quasi sicuramente l'intenzione non era quella di uccidere, ma quella di lanciare un avvertimento nei confronti di Pasanisi ed è in questa direzione che si stanno muovendo le indagini dei militari del comando provinciale di Taranto. L'uomo infatti è già noto alle forze dell'ordine per essere finito in manette nel 2007 con l'accusa di spaccio e di sostanze stupefacenti. Sul posto sono intervenuti anche i medici del 118 per le prime cure all'uomo che comunque non è in pericolo di vita.